Nome. Giancarlo Giudice. Soprannome. Il mostro di Torino. Numero vittime. 9. Modus operendi. Strangolamento, sgozzamento, armi da fuoco, dava fuoco ai cadaveri. Giancarlo Giudice nasce a Torino l'11 marzo del 1952, trovandosi da subito a vivere un'infanzia molto difficile e tormentata. Il padre disabile, è un arreduce dalla campagna di Russia, con problemi di alcolismo e portatore di un carattere rozzo e scostante, mentre la mamma, con la quale era molto legato, si ammala di cuore quando lui aveva appena otto anni. Giancarlo, nonostante la giovanissima età, provvede ad assistere la madre, sinché non fu rinchiuso nel collegio Don Orione di Alessandria, dove, solo a funerali avvenuti, verrà a conoscenza della morte della mamma. A tredici anni, fortemente scosso dalla perdita del genitore, tenta il suicidio e da quattordici, torna a casa, mentre nel frattempo il padre si risposa con la nuova compagna, trasferendosi in Calabria ed abbandonando nuovamente il figlio a se stesso, non prima però, che abbia avuto inizio l'ossessione di Giancarlo Giudice. È lei, la sua matrigna, la prima donna che cerca di violentare l'oggetto di quelli che saranno l'incubo e l'assillo della sua futura vita, mentre il padre muore affetto da cirrosi epatica, lasciando completamente solo il figlio, che rimasto a Torino, si arrangia come meglio può. Il futuro assassino conduceva un'esistenza squallida, da precario. Colleziona armi bianche e riviste porno. Vive da solo, se sa amicizie maschili o femminili. Frequenta esclusivamente prostitute. Beve molto, spesso si ubriaca, a volte fa uso di hashish, acidi e cocaina. Intanto non è esente da episodi delinquenziali, che lo vedono autore di almeno due vicende di sequestro di persone e concupiscenza violenta, commessa a carico di prostitute, risultando anche disertore, autore di furti e detentore abusivo di armi varie. Gli omicidi seriali di Giancarlo Giudice, il cosiddetto mostro di Torino, iniziano il 28 dicembre 1983 con l'uccisione di Francesca Pecoraro. Il ritrovamento del corpo avviene lungo la stura, nel bagagliaio di una bianchina rubata e poi data alle fiamme. Passano due settimane sulla superstrada per chi vasso viene trovato il corpo sgozzato di annunziata pafondo, di 48 anni. Dopo una denuncia, giudice viene condannato per lesioni a sei mesi di reclusione. Nel mese di aprile del 1985 uccide due donne, che il POR restituisce cadaveri. Si tratta di Addolorata Benvenuto, di 47 anni, e di Giovanna Bichi, di 64 anni, una donna costretta a fare la vita per mantenere il figlio disoccupato e tossicodipendente. Erano state entrambe strangolate. A marzo del 1986, giudice uccide tagliandole la gola, Maria Corda, una sua amica di 44 anni, ritrovata nel canale Depretis vicino a Caluso. Giudice aveva con questa donna un rapporto di amicizia da molti anni. Il 30 marzo muore Maria Galfre, anche lei di 44 anni, uccisa con un colpo di pistola calibro 22. Dopo averle sparato, l'assassino trasporta il cadavere in una baracca e poi appicca il fuoco. A inizio aprile tocca alla 67enne Laura Belmonte, anche lei ritrovata in un canale con i polsi legati con un cavo elettrico ad un gancio da rimorchio, segno di torture e strangolamento. Il mese dopo, il 22 maggio è la volta di Clelia Mollo, strangolata e abbandonata nel suo appartamento, dopo essere stata stordita dall'assassino con cocaina e Mariona. Il 28 giugno, giudice uccide Maria Rosa Paoli, 37 anni, affiliata ai nuclei armati proletari, con un colpo di pistola da distanza ravvicinata. Il corpo lo getta nella vegetazione della collina turinese. È questo il giorno in cui viene fermato inaspettatamente. Sorpreso dalla polizia stradale in una piazzola, in atti o sceni solitari, non può nascondere il sangue della Paoli, morta da poche ore. Sulla sua auto vengono trovate due pistole, munizioni e un asciugamano intriso di sangue. Dopo un mese di carcere, l'omicida confessa tutti i suoi delitti, facendo appunto salire il numero delle vittime a lui attribuite da 6 a 9 e permettendo il riconoscimento dell'identità del cadavere di Francesca Pecoraro. L'assassino uccideva le donne che le ricordavano la sua matrigna. Giudicato capace di intendere e di volere, Giancarlo Giudice nel marzo 1989 viene condannato all'ergastolo, pena ridotta in appello a 30 anni di reclusione più 3 di casa di cura. Grazie.